Oggi vediamo insieme i 5 migliori accessori tecnologici da viaggio a meno di 50 euro. Chi viaggia molto sa benissimo quanto possono essere fastidiosi i cavi. Ecco perché il nostro primo accessorio sono le Philips SHB7150, un paio di ottime cuffie bluetooth che vi permettono un ascolto confortevole senza i disagi di una cuffia cablata. Sono delle cuffie over-ear, con dei morbidi padiglioni e curate rifiniture in ecopelle. L'audio è buono e consente di raggiungere un discreto volume nonostante la connessione wireless. I controlli del volume e delle tracce si trovano sul padiglione destro, mentre sul sinistro possiamo trovare un utile jack audio per utilizzare le cuffie anche via cavo. La batteria vi garantisce fino a 9 ore di riproduzione continuativa. Sono anche dotate di un chip NFC che vi permette dei pairing istantanei con i dispositivi Android compatibili. Un paio di cuffie senza pretese ad un costo contenuto, ottime per gli spostamenti giornalieri. Un altro problema comune mentre si è in viaggio è la grande quantità di alimentatori che è necessario trasportare in valigia. Pochi ha pensato ad una comoda soluzione, un alimentatore da parete con tre porte USB che integra un chip I.O. che riconosce automaticamente il voltaggio del dispositivo connesso ed eroga la corrente necessaria. Un piccolo LED verde protegge dai sovraccarichi e ne indica il corretto funzionamento. Nel caso in cui invece non abbiate a disposizione una presa di corrente, potrebbe tornare comoda una batteria esterna super capiente, prodotta da Amazon Basic. 10.000 mAh vi garantiscono ricariche multiple per il vostro smartphone e tutti i vostri dispositivi. 4 piccoli LED blu indicano la percentuale di carica residua. È dotata di due uscite USB a differente amperaggio per la carica simultanea. Il design è molto pulito e sottile, con una rifinitura opaca su tutta la superficie. Tutti questi accessori rischiano di creare una gran confusione all'interno dello zaino. È per questo che esiste GridEat, una pratica superficie rigida che permette, grazie alla presenza in una fitta rete di elastici antiscivolo, di tenere fermi e ordinati tutti i piccoli accessori che normalmente accompagnano i nostri viaggi. Mouse, alimentatori, chiaveti USB e quant'altro vengono bloccati in posizione e sono facilmente estraibili. GridEat viene prodotto in diverse dimensioni e colori, a seconda delle esigenze. Per ultimo, un piccolo accessorio per il portachiavi. Nomad ha prodotto un microcavo, disponibile sia in Lightning che un micro USB, che vi permette di non rimanere mai senza alimentazione per i vostri dispositivi. Piccolo e leggero è estremamente versatile vista l'enorme flessibilità. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e iscrivetevi, ma noi ci rivediamo al prossimo video.